E' stata riaperta nei giorni scorsi la sede di Sulmona dell'Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale, ovvero l'Ater della provincia dell'Aquila. In tal modo torna a pieno regime anche sul territorio della Valle Pelinia dell'Alto Sangro, il vasto bacino d'utenza, il servizio per rispondere alle necessità degli inquilini. In particolare gli uffici saranno in funzione nella giornata di mercoledì, al mattino, dalle 9.30 alle 13, per ricevere gli affittuari, poi nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, per effettuare sopralluoghi programmati da personale sulla base delle istanze pervenute dagli inquilini. A sollecitare la riattivazione dell'ufficio nell'ultimo periodo è stato il comitato di quartiere della palazzina Ater di via 25 Aprile, dopo i casi di legionella e degli incendi dolosi, per il tramite delle istituzioni, comune di Sulmona compreso. Si riapre quindi il cosiddetto ufficio di prossimità che serve all'inquilinato, anche se un'associazione propria degli inquilini pure si sta formando.